E' un impegno serio, quello di tutta la direzione sanitaria della regione, dei vertici della ASL, è un impegno che dobbiamo onorare nei confronti della comunità tiburtina che è stata così ferita da quell'evento e anche nei confronti degli operatori sanitari che in questo momento molti di loro sono sacrificati, stanno lavorando anche in differenti luoghi costretti a grande sacrificio, quindi ora si sta già lavorando pancia a terra per fare in modo che queste scadenze vengano rispettate ad ogni costo e che l'ospedale ritrovi una sua piena sicurezza per il buon funzionamento della sanità.